Ritardi della Regione Campania nell'erogazione dei finanziamenti destinati alla città di Cava dei Tirreni e il sindaco Luigi Gravagnuolo si dice preoccupato. Un ritardo malgrado esista già un protocollo di intesa siglato nel marzo 2008 a Palazzo Santa Lucia, tra il comune metelliano, la provincia di Salerno e la Regione Campania. L'accordo raggiunto stabiliva sia la somma pari a circa 27 milioni di euro che la metodologia da seguire per impiegare al meglio il finanziamento. I fondi che ci spettano restano al palo perché manca ogni comunicazione tra i tre organismi che devono dare e lascia passare definitivo, ha spiegato il sindaco. Per il resto è tutto in regola ed una parte dei soldi potremmo spenderla già subito. L'erogazione dei fondi regionali permetterebbe di migliorare l'immagine della città e di creare nuove opportunità di lavoro. La riqualificazione urbana del Fondo Valle, come previsto dal protocollo di intesa, è strettamente collegata ai programmati festeggiamenti dei mille anni dell'Abbazia Benedettina nel 2011.